Nel nome del Padre, del Figlio e del Spirito Santo. Amo. Gesù ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come in me. Per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regine Immacolata Celeste e Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del voler divino e stretto alla tua mano guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consiglia della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora per la nostra morte. Amen. Grazie a tutti. Oh mio Signore, oh mio Signore, Cristo Gesù. Cristo Gesù. Venga il tuo regno, venga il tuo regno, oh mio Signore, oh mio Signore, Cristo Gesù. Cristo Gesù. Venga il tuo regno, oh mio Signore, oh mio Signore, oh mio Signore. Per adorarti nel tuo regno. Emanuele, Emanuele, Cristo Gesù, venga il tuo regno, venga il tuo regno, O mio Signore, Cristo Gesù, venga il tuo regno, Cristo Gesù, venga il tuo regno, Nel tuo volere, oh mio Signore, oh mio Signore, non sono io, io che io, ma tu chiedi di me. Imanuele, Cristo Gesù, venga il tuo regno, Il breve esagio sulla Divina Volontà, volume 14, 19 ottobre 1922, il seguito della meditazione di ieri. Nel mio volere, continua Gesù a Luisa, ci sono tutti gli atti che fece la mia umanità, sia interni che esterni. Degli atti esterni più o meno si sa ciò che io feci, e la creatura, volendosi, può unire con me e prendere parte a quel bene che feci. Ed io sento il contento, perché vedo il mio bene in mezzo alle creature come moltiplicato, in virtù dell'unione che formano con me. I miei atti sono messi come in banca, e ne riscuoto gli interessi. Invece, degli atti interni che fece la mia umanità nella Divina Volontà per l'amore di tutti, poco o nulla si sa. E la creatura, non conoscendo né la potenza di questo volere, né come la mia anima operava in esso, né ciò che feci, come potrà unirsi con me per prendere parte a quel bene? La conoscenza porta con sé il valore, gli effetti, la vita di quel bene. Un oggetto tanto utile porta, per quanto si conosce. Volendoti insieme con me, anche nei miei atti interni che faceva la mia umanità in questo volere supremo, è giusto che ti faccia conoscere i pregi, i valori, gli effetti, la potenza ed il modo che tiene questo mio volere. E da seconda che ti vado manifestando, apro tra te e me la partecipazione di quello che ti faccio conoscere. Altrimenti, a che pro dirtelo? Forse per darti una semplice notizia? No, no, quando io faccio conoscere è perché voglio dare. Sì che quanti valori ed effetti conosci, tanto ti ho dato. Perciò vedi il gran bene che voglio fare non solo a te, ma anche agli altri, perché come si farà via questa conoscenza del vivere nel mio volere, esso sarà amato di più e l'amore assorbirà in loro tutto il bene che la conoscenza, come madre feconda, avrà partorito. Io non sono il Dio isolato, no, voglio la creatura insieme con me. L'eco mia deve risuonare nella sua e la sua nella mia, per farne una sola. E se ho aspettato tanti secoli per far conoscere il mio volere operante nella creatura ed il suo operante nel mio, quasi levandolo al mio stesso livello, era perché dovevo preparare e disporre le creature a passare dalle conoscenze minori alle maggiori. Dovevo fare come un maestro che deve insegnare le vocali, le consonanti e poi passa ai componimenti. Finora non si sapeva altro della mia volontà che d'evocare le consonanti. Era necessario che passassi ai componimenti e questo mi svolgerà la vita della mia volontà. Il primo componimento lo voglio da te, dice Gesù di volta all'Iso. Se sarai attenta, lo svolgerei bene. In modo da darmi l'onore di un tema che ti ha dato il tuo Gesù, il tema più nobile, il tema del volere eterno, che mi porterà la gloria più grande e che formando il connesso con le creature farà conoscere nuovi orizzonti, nuovi cieli e nuovi eccessi del mio amore. Vedi, nel mio volere supremo stanno tutti i miei atti interni che fece la mia umanità come un'aspettativa per uscire come messaggeri e per mettersi in via. Questi atti sono stati fatti per le creature e vogliono darsi e farsi conoscere e non dandosi si sentono come imprigionati e pregano e supplicano che il mio volere li metta a conoscenza per poter dare il bene che essi contengono. Come sempre, le cose che abbiamo ascoltato sono straordinariamente belle e importanti. volendo farne una meditazione, una sintesi ordinata affrontano queste tematiche. Primo, l'importanza di, anzitutto, prendere coscienza e poi, per quanto possibile, addentrarsi negli atti interni che fece la santissima umanità di Gesù. Io credo già in qualche meditazione precedente ho suggerito due fonti, diciamo così, buone per farsi un'idea. Il primo sono le 24 ore della passione e il secondo è la vita interna di Gesù Cristo e di Sua Cecilia Bai dove si vede tutto quanto il lavoro continuo che l'anima di Gesù faceva in ogni cosa che compiva non solo durante la passione ma anche durante la sua vita terrena. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è l'importanza della conoscenza. ed anche uno dei punti fondamentali del discorso che ci sono fatto con Luisa è che la rivelazione di queste cose è finalizzata immediatamente alla possibilità di viverle. Ed anche c'è un punto fondamentale che ricorre negli scritti che quando una persona viene a conoscenza per qualunque motivo anche, diciamo così, non voluto, inaspettato, rogambolesco, quello che vogliamo, della divina volontà è perché il Signore intende farli per quanto sta in Lui questo dono. E se ciò non avverrà è certamente perché la persona il dono non lo ha accolto, lo ha sottovalutato, lo ha disprezzato, non ha preso gli opportuni mezzi per poterlo mettere in atto, cominciarlo a vivere, eccetera. E poi un po' una sintesi storica, no? E anche un pochino una spiegazione che è quella evidentemente più logica. Cioè, questo è un concetto rigorosamente cattolico, eh? si trova anche nella Dei Verbum, cioè la rivelazione di Dio è stata una rivelazione storica. Cioè, storica nel senso che è venuta gradualmente nel corso della storia. Questa gradualità, diciamo, è stata imposta tra virgolette, abbiamo bene il senso, A Dio dalla condizione come dire, che dire miserevole e fare, come dire, un eufemismo, insomma, in cui la natura umana era precipitata. Cioè, la precipitazione di cui parlo nei capitoli della Genesi prima del diluvio universale che usa un linguaggio metaforico, insomma, fa capire, insomma, un tasso, un grado di perversione veramente folle, aveva fatto precipitare la lazza umana di un tale stato di, come dire, di barbarie, di incultura pazzesca. Che cosa gli vai a dire nel 1800 a.C., insomma, agli uomini di quel tempo, no? Cioè, gli 850 circa è il momento in cui sappiamo essere comparso Abramo sul pianeta Terra, no? Cioè, basta studiare la storia per rendersi conto di queste cose, no? Cioè, barbarità di ogni genere, insomma, in giro sono andati avanti insomma un bel pezzo. Anche quando Gesù è venuto sulla Terra c'era un certo grado come dire di un po' meno peggio raggiunto, diciamo così, non mi vengono altri termini, ma certamente insomma la situazione che fosse proprio il top, sì, c'erano stati i grandi movimenti occidentali, insomma, in Grecia era nata la filosofia, a Roma era nato il diritto, era nata l'ingegneria, c'era il tempo della Pax Auguste, insomma, quindi diciamo che era un periodo però, insomma, il tasso di barbare e di civiltà diffusa era ancora abbastanza ampio, insomma, i romani erano veramente pagani con la P maiuscola, insomma, no? Nella vita belve nell'esecuzione, insomma, nell'esercito del diritto penale, insomma, sappiamo, la procemissione che Gesù ha affrontato era una pena, quindi, comunque, quello era il tempo giusto per, secondo i decreti dell'Altissimo, per portare la liberazione alla pienezza di quella che si dice che è il Vangelo e l'opera della redenzione, no? però, tu che cosa gli vai a dire a quei tempi ad un uomo che ancora non ha da sé in tanti millenni la grazia santificante gli parli del divino volere? Sarebbe come se un bambino delle scuole elementari gli parli dei logaritmi ma che c'è capisce? Ecco, e qui Gesù fa l'esempio delle vocali, delle consonanti molto bello e dei componimenti se volesse fare insomma facciamo che le vocali sono l'Antico Testamento le consonanti del Nuovo Testamento e in effetti poi i componimenti è molto bella questa immagine perché i componimenti per certi aspetti non fanno nient'altro che rielaborare in un esso logico le parole quindi è molto bello perché è qualcosa di più sì ma non è niente di nuovo perché tutto quanto come dire la sostanza del componimento sta insita nella vocale nella consonante e nelle parole che poi si usano ed è proprio così il regno della divina volontà e le verità della divina volontà che sono tutte contenute come dire in in nuce si dice tecnicamente oppure in maniera molto verata a tratti nella rivelazione Gesù ha semplicemente tolto il velo e le ha dispiegate ma se uno pensa bene è tutto perfettamente coerente e logico ecco riprendiamo un attimo questi questi punti elaborandoli in parte gli atti interni di Gesù quindi l'interiorità è qualche cosa anche per noi di cui non si parlerà mai abbastanza che deve essere riscoperta prendiamo per esempio facciamo l'esempio della vita penitenziale no? noi siamo fatti così se una persona viene a dirti che usa il cilizio tu dici usa il cilizio mamma mia io non so che fanno ma una persona che anziché usare il cilizio oppure oltre usare il cilizio perché usare il cilizio non è certamente una cosa deprecabile in se stessa purché lo si faccia con la debita discrezione a tempo luogo opportuno col padre spirituale tutte le cose che si insegna ma uno che tiene a dire sai che io faccio attenzione continua a non rispondere male mai a nessuno dunque questo nessuno lo vede ma agli occhi di Dio è il più importante che se uno porta il cilizio e risponde sempre male a destra e a manca a tutti quanti sta sempre arrabbiato nero e uno che il cilizio non lo porta e cerca di stare attento a non rispondere male a nessuno facciamo questa domanda retolica quale cosa è più gradita al Signore cioè l'esterno e l'interno non devono mai essere contrapposti perché l'esterno e l'interno siccome era in Gesù devono avere una coerenza assoluta quindi intrinseca devono essere perfettamente consonanti ma noi per come siamo fatti facciamo molta attenzione alle cose appariscenti e quasi per nulla quelle non appariscenti e invece nella divina volontà è tutto non appariscente perché da un punto di vista esterno non cambia assolutamente nulla della nostra esistenza della nostra vita zero cambia tutto quanto l'interiore quindi il modo con cui noi facciamo viviamo parliamo pensiamo e operiamo questo è quello che cambia e attenzione che tutto quanto l'interiore questo lo insegna nella chiesa nella sua dottrina il valore di un'opera non dipende solo dall'opera in se stessa ma dipende dall'intenzione e dalle disposizioni con quel compiuto questo lo abbiamo anche nel Vangelo no? il digiuno è una cosa buona o cattiva il digiuno è una cosa in sé buona come dice Gesù io faccio il digiuno per farmi ritenere santo quindi lo ostento o richiamo l'attenzione ammazza questo che è sano fa il digiuno al pane acqua addirittura fa il digiuno assoluto non mangia proprio niente mamma mia se uno ha questa intenzione che è una cosa interna non la vede Dio non la vede il prossimo non solo quel digiuno non vale niente agli occhi di Dio ma quel digiuno sarà punito da Dio perché è peccaminoso vale anche ci sono anche gli esempi contrari no? supponiamola la maldicenza in se stessa è un peccato non si parla male del prossimo però come segnale menestri di spirito non è maldicenza per esempio se io per aiutare una persona e devo chiedere aiuto per esempio parlo col padre spirituale e gli devo raccontare per forza d'accordo le male fatte che ha fatto quella persona per ricordare come mi devo comportare come la posso aiutare come devo reagire in quel caso non è che ho fatto la maldicenza d'accordo? non ho fatto assolutamente nulla no? così come fare la spia è una cosa brutta è un peccato ecco però se io vedo una cosa fatta malamente da una persona e gliela faccio delicatamente notare e non mi ascolta gliela faccio delicatamente notare e non mi ascolta e magari questa è una persona che ha una funzione e ha un ruolo e dopo che ci ha provato sento in coscienza che per il bene di tutti devo avvisare l'autorità superiore perché la possa correggere quello non è fare la spia questo è un fatto doveroso Gesù lo dice nel Vangelo se vedi che tuo fratello pecca prima di impararlo tra te e lui poi prendi due o tre testimoni e poi dire all'assemblea quell'espressione dire all'assemblea ecclesia è proprio in caso che non ti ascolti che si tratta di una cosa grave devi dirlo all'autorità superiore se si tratta di cose di chiesa all'autorità ecclesiastica al parroco c'è un problema della parrocchia al vescovo c'è un problema di un prete al papa c'è un problema di un vescovo per dire non è fare la spia ne uno deve sentirsi in colpa capite ecco quindi questo per dire che sono le intenzioni e le disposizioni con cui noi operiamo che cambiano le specie io recentemente ho fatto una media che era proprio domenica scorsa però a proposito della parola del seminatore dove dicevo che sono le disposizioni quelle che ci arricchiscono per esempio negli scritti di Misa si trova una cosa che deve essere ben intesa e ben interpretata altrimenti si sprolobia dove Gesù dice qual è il pane quotidiano che chiediamo nel Padre Nostro noi dobbiamo sapere che le persone come dire di non grande spiritualità dicono il pane quotidiano è necessario al nostro fabbisogno terreno ed è vero questo qui non è che fanso il pane quotidiano è chiaro che c'è anche questo anticamente quando c'erano un po' più fede e pensavano più all'anima che al corpo se leggete molti scritti dei padri della chiesa dicevano cos'è il pane quotidiano ma è l'eucaristia d'accordo io posso pure non mangiare ma senza l'eucaristia non si può vivere eh ma cosa dice però Gesù qual è il pane quotidiano lo ha detto nel mangiare di San Giovanni alla fine del discorso con la samaritana quando i discepoli tornano gli dicono rabbì mangia rabbì mangia lui risponde ho da mangiare un cibo che voi non conoscete molto interessante e poi il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato qual è il pane quotidiano il pane quotidiano è la divina volontà e se tu non ti fai la comunione e fai la divina volontà stai tranquillo che l'hai fatta cento volte la comunione e se tu ti fai la comunione e non fai la divina volontà perché fai la comunione malamente cioè con non buone disposizioni quella comunione ti serve quasi a niente dicevo durante la predica ma come mai c'è gente che va messa spesso pure tutti i giorni fa stare sempre a fare la comunione e gli dici che sono sempre uguali se non peggio i pagani le persone lontane dalla chiesa bestemmiano a casa di questo cominciano a dire se quello è così io divento chi ci mette ma viene in chiesa ma questo non dipende dal fatto che l'operano perché nell'operazione è presente Gesù è presente operante ma è la disposizione interiore e in parte anche esteriore con cui tu ti accosti alla Santa Comunione quindi gli atti interiori di Gesù sono molto più importanti negli scritti di Luisa si vede che per esempio il Getsemani dove Gesù tutti sapevano che avevano vissuto la passione spirituale che cosa è consistita la passione spirituale sono un complesso di cose a un certo punto Gesù dice che l'amore con la A maiuscola gli ha fatto vivere nel Getsemani una passione uguale a quella esteriore perché parla di fragelli parla di spine parla di chiodi ma miliardi di volte più intensa cioè quello che avrebbe vissuto dopo che è una cosa allucinante se uno lo segue bene passo passo io veramente quando arrivo alle ore 18-19 le volte veramente non ce la faccio più basta perché è veramente impressionante ma in confronto a quello che è venuto era nulla in confronto a quello che c'era stato nell'interno quindi queste cose dobbiamo conoscerle e uno si innamora della divina volontà tanto quanto prende conoscenze e approfondisce le conoscenze io dico sempre non c'è giorno perché cerco di leggere ogni giorno qualcosa in cui non cioè con questo mondo oggi vogliamo sconvolgersi un po' quest'anno i tossici che si fanno la dose d'accordo tu sei sicuro che se apri qualche pagina degli iscritti qualche coccolone ti viene sicuramente al 100% almeno ieri è matematico se tu lo prendi sul serio perché è vero che come dire si ruota diciamo intorno a un unico tema perché il tema è la divina volontà ma come dire le cose insomma che gradualmente ha centellinato Gesù sono veramente impressionanti e noi sappiamo che tu non ti puoi innamorare se non di ciò che conosci gli uomini sulla terra non amano Dio Dio non è possibile non capite cioè se c'è una impossibilità assoluta cioè è impossibile non amare Dio impossibile d'accordo perché Dio è sommamente amabile voi sapete che se dice San Tommaso Davino che in paradiso appena si entra in paradiso ci si sperde completamente si ama Dio talmente tanto che se completamente fusi con lui e questa fusione non potrà cessare mai più perché appena tu lo vedi è per forza così è un per forza che non fa violenza che mantiene però che capite e non ti stacchi più perché accade questo perché lo vedi perché c'è la visione beatifica e appena c'è la visione beatifica parti completamente parti ma non può essere nient'altro che così ora qui non abbiamo una visione beatifica abbiamo la conoscenza nella fede però la conoscenza nella fede però pensate a quanto sono sciagurati tu dici come fa una persona entrata nella piena volontà se campa come campano la stragrande maggioranza dei cosiddetti cattolici che sanno proprio neanche l'ABC io lo vedo ho cambiato tre parrocchie fino adesso ogni volta che in una parrocchia capisci la fatica che uno deve fare perché vedi l'incultura religiosa sono proprio poveracce non è che cioè capito sono come analfabeti d'accordo l'analfabeta che gli dici mi firma te metterai X è buona firma sa scrivere capite allora questa è una grande responsabilità insomma anche da parte di tutti no perché adesso i medici ce ne stanno tanti d'accordo perché anche queste meditazioni che tra le tante cose insomma nello web ci sono tantissime cose no oggi sapete questa società infernale sapete ogni medaglia ha il suo rovescio no perché anche le cose potenzialmente infernali che ha se usate per il bene possono diventare veicoli quindi noi oggi possiamo attingere facilmente formazione e informazione comodamente saluti a casa nostra no non solo quando tu lo senti in video su youtube se impari a usare youtube che lo metti dentro alla tua lista guarda più tardi ci metti pausa e quando lo vai a riprendere anche se hai spento il computer te lo riprendi esattamente dal punto in cui l'hai lasciato quindi cioè veramente abbiamo la possibilità no è chiaro che per entrare in queste conoscenze superiori non è che questa è un'elite però è evidente che cosa vuol dire essere nella divina volontà e vivere nella divina volontà se non c'è la più pari di cosa di cosa sia fare la volontà di Dio cioè se uno ti chiede ma il primo comandamento che è boh cioè ma se il primo comandamento è boh cioè come fai accostata questa roba qua no quindi c'è una propietricità ma c'è sempre un problema per questo che è così importante io ho visto nella nella mia vita sacerdotale non è mia volontà che io faccia quello che sto facendo ma il Signore ha voluto che avessi che profondessi un grande impegno proprio nella nella predicazione finalizzata a far conoscere d'accordo non sono certamente l'unico siamo siamo in tanti grazie grazie a Dio a fare ancora questo perché senza conoscenza non c'è nessuna possibilità di di conversione ecco noi ci innamoriamo di ciò che conosciamo e Gesù dice una cosa tanto bella qui guardate come si farà via questa conoscenza del vivere nel mio volere esso sarà amato di più e l'amore assorbirà in loro tutto il bene che la conoscenza per madre feconda era il loro partorito cioè se tu sinceramente ti addentri in questo mondo spalanchi le porte e acquisisci queste conoscenze allora sono sempre due le cose o non ci credi se ci credi è impossibile che questo non diventi l'oggetto principale e unico dei tuoi pensieri e dei tuoi desideri d'accordo almeno per quanto mi mi riguarda vorrei come ultima cosa far notare un piccolo particolare un'espressione molto bella che usa Gesù io non sono il Dio isolato voglio la creatura insieme con me attenzione l'ecomia deve risuonare nella sua e la sua nella mia i rapporti che si hanno con Gesù con Maria che tanto è la stessa identica cosa sono rapporti bilaterali quindi non è cioè è chiaro che noi riceviamo tutto da Gesù d'accordo e che non possiamo come dire dargli nulla che lui non abbia tranne una cosa però adesso dobbiamo pensare è perché lui il nostro amore non c'erà se non glielo diamo noi non c'erà manco per niente cioè l'amore mio di me Gesù lo avrà se io glielo do se no non c'erà appunto c'erà qualcun altro c'erano le creature c'erano i soldi c'erano tutto quello che ti pare tra le altre cose che amano gli uomini e questo è il nostro questo qui e questo Gesù lo vuole che lo diamo in contraccambio come il contraccambio di lode di amore di orazione anche il nostro personale dice quando parla Gesù quando parla Luisa se ho aspettato attenzione ed il suo operante nel mio cioè non solo la divina volontà operante in noi state attenti ma la mia volontà operante nella sua cioè speriamo che la spirito santo mi aiuti perché io ce l'ho lucidissimo nella testa un atto che faccio io come io se lo faccio nella divina volontà io chiamo la divina volontà ad operare in me d'accordo però quell'arte è mio io so io non c'è nessun altro come me non c'è mai stato e mai ci sarà né come te che mi stai ascoltando quindi quello che faccio io è mio anche la cosa più stupida di questo mondo e se lo faccio nella divina volontà non è soltanto la divina volontà che opera in me ma sono io che opero in lei e Gesù questo lo vuole lo desidera capito? capito? questo bisogna capirlo bene tu dici se tu quindi non lo fai dai un dispiacere a Gesù ah certamente sì e che ci si fa Gesù con le cose che faccio io? ah io non lo so che ci si fa ma le vuole d'accordo le vuole o meglio non lo so sì adesso lo comincio a capire un pochino è una cosa stupenda questa qui quindi è veramente un orizzonte impressionante e questo cioè capite che significa il mio volere operante in quello di Gesù è oh dice elevandolo quasi al mio stesso livello ah oh eh 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 è veramente impressionante gli atti di Gesù l'ultima cosa che abbiamo detto sono stati fatti per le creature lui ha fatto tutto per noi e vogliono darsi e farsi conoscere attenzione non 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 dandosi cioè guarda immagino tutti questi atti che ha fatto Gesù che sono a nostra disposizione che sono quasi sospesi anzi qui richiama si sentono come imprigionati stanno in galera stanno avete visto un galeotto uno che se è uno si mettono in galera ah tu vuoi scappare non si sta a fare in galera cioè in galera non si può campare in galera vuoi essere libero si sentono come imprigionati e pregano supplicano che il mio volere li metta a conoscenza e poter dare il bene che si contengono la vita nella divina volontà è veramente vita divina ed è vita veramente felice io invito a leggere gli scritti perché non voglio certamente mettere troppe cose ma ci sono delle promesse legate a chi viene alla divina volontà che se uno le legge gli prende un infarto se non è forte di voi ma veramente io potrei vivere una vita così sì la risposta è sì ecco che la luce della conoscenza possa essere sempre più forte dentro il nostro cuore che possiamo renderci conto parafra su San Paolo che ci possa lo spirito illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati e quale tesoro di loro e la chiude della solidità dei santi questo è un passo di San Paolo che ci dà memoria ma questo è quanto mai è adatto per la divina volontà un minuto sempre di silenzio e di meditazione di San Paolo di San Paolo con la divina Maria tu sei la sede della sapienza e il faro luminoso di scienza come viene dalla chiesa invocata nell'inno Nacatistos noi invochiamo la tua presenza nella nostra anima ecco perché come dice la Sacra Scrittura l'espressione di un salmo alla tua luce possiamo vedere la luce la luce della tua sapienza di schierare le nostre menti di radi le nostre nebbie e ci faccia davvero comprendere quello che tu immediatamente comprendesti appena concepita di che cosa era il segreto della felicità e da dove venivano tutti i mali c'era anche il compimento di un solo atto di volontà propria noi crediamo che Dio vuole donarci questo regno di cielo e crediamo che ci lo donerà in te e attraverso di te ti chiediamo di ottenerci questa grazia per noi e per tutti Adveniat Regnum Tuum Adveniat Regnum Maria Adveniat Regnum Tuum Adveniat Regnum Maria Adveniat Regnum Tuum Adveniat Regnum Maria Advenia Trenium Tum, Advenia Trenium Maria Advenia Trenium Maria Advenia Trenium Tum, 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 Advenia Trenium Maria prima della benedizione con il proposito di oggi ricordiamo, torniamo molto a meditare sull'importanza della conoscenza e proponiamo a proposito salutare di impegnarci per crescere sempre più nella conoscenza della bellezza e dei misteri del regno e del dirimvolere nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua madre santissima prima di iniziare la sua passione quindi per mezzo all'intercessione della beata semprevergine Maria madre generale di una volontà ti benedico per imprimere in te il tribio suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divino volere questa benedizione nel nome del Padre comunichi ed imprimi nella tua volontà il suggello della sua potenza restituendo la sua donna di tutto nel nome del Figlio Gesù comunichi ed imprimi nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza e nel nome dello Spirito Santo comunichi ed imprime nella tua memoria il suggello del suo amore ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo sii risanato da ogni infermità spirituale e corporale ed arricchita e abbellita di ogni bene e virtù la tua anima per circondarti di difesa contro il demonio il mondo e la carne insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create affinché tu risiedi a tutto e benediti da lui ti benedico la luce l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo tutto affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi il corpo, le viscere il respiro e il moto tutto ti benedico per aiutarti ti benedico per difenderti ti benedico per perdonarti ti benedico per liberarti da ogni male ti benedico per consolarti ti benedico per farti santo ti benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Fiat Ave Maria